Ma ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io invece sono appena tornato da un'escursione fichissima sul Monte Labro che vi porterò nei prossimi giorni al parco faunistico del Monte Amiata, bellissimo, è stata un'escursione molto figa, domani vi porterò il video sul canale e oggi in questo video velocissimo mi sono detto Tom perché non fai vedere, anzi oggi me lo sono detto, perché non fai vedere gli accessori che utilizzi in escursione ai tuoi amici ed ecco qua ragazzi vi faccio vedere oggi la mia tazza, poi vi porterò anche altre tazze in titanio fighissime, questa invece in acciaio inox è la MH150, una tazza in acciaio molto resistente da 400 ml dentro abbiamo comunque come potete vedere qui c'è la gradazione che è sulcata anche dentro ovviamente e questo doppio manico molto semplice, figo che si va a chiudere così sulla tazza così occupa meno spazio e volendo si può aprire e legarla anche con un moschettone semplice allo zaino acciaio inox mi piace perché innanzitutto come potete pensare l'acciaio inox per gli alimenti è ottimo quindi per le bevande è perfetto, piccolo enorme neo cioè che ovviamente è un acciaio inox a uno strato quindi super mega iper ultra conduttore potete usarlo sul fornellino e potete metterci bevande caldissime, l'unico problema è che ovviamente non schermerà nulla, essendo un unico strato il rischio di ustioni è molto 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 reale quindi mi raccomando fate attenzione a non bruciarvi questa è una tazza che si vede tantissimo su sentieri costa veramente poco è ottima mi sono segnato un po' di cose che comunque possono sembrare semplici ma non solo vi dico subito il prezzo 3,99 tazza super economica ma veramente molto molto resistente ci bevo caffette di tutto veramente di tutto mi piace tantissimo mettermi lì no appoggiarla su un ceppo o su qualcosa e vedere il fumo che esce e il tè veramente veramente fighissimo vi dico qualche altra cosa su questa tazza mi raccomando ragazzi lavare sempre bene prima di riporre il prodotto è importante quando tornate a casa una bella sciacquata preferibilmente ragazzi non lo so non utilizzate saponi non lo so perché a me non piace io tanto tendenzialmente ci bevo o tè al massimo sì se ci bevo la cioccolata calda cerco di dargli una passata se potete però anche dopo la cioccolata sciacquatelo subito in modo che togliete tutti i residui di cioccolata e poi lo lavate a casa peso che è molto importante 120 grammi per questa tazza quindi veramente leggera esiste una in titanio che vi porterò sul canale quella sì che è figa è la mt500 che pesa solamente 68 grammi in una roba così incredibile mega ultra leggera e soprattutto non dovrebbe avere il problema di questa qui che sia un doppio strato di dare la possibilità di non ustionarti se qualcuno di voi per caso ce l'ha fateci sapere nei commenti com'è che sono curioso non vedo l'ora di utilizzarla niente fondamentalmente ragazzi poi non mettete in microonde ma è per il campeggio quindi in microonde perché ce lo dovreste mettere però Decathlon ce lo dice e ci dice appunto limite di utilizzo attenzione ve lo ripeto rischio di ustioni con liquidi caldi ma veramente ragazzi eh cioè anche se ci mettete l'acqua bollente mi raccomando tenetela sempre dal manico dalle anze così non prendetela mai sotto consiglio che vi posso dare se avete lo strofinaccio o quello che è o il piccolo asciugamano che vi serve per asciugarvi in escursione magari utilizzate quello se volete appoggiarlo oppure ricordatevelo di prenderlo sempre dal manico di prendere sempre dal manico questa tazza che comunque è figa se volete acquistarla potete farlo anche ovviamente dal mio link potete fare il ritiro gratuito in negozio anche per questo ovviamente per tutti i prodotti Decathlon il ritiro gratuito in negozio in un'ora al Decathlon più vicino a casa tua e niente ragazzi continuate a seguirmi vi porterò presto altre tazze altri accessori forchette cose varie che comunque sono sempre molto interessanti e è bello vedere no ecco qua vi faccio vedere com'è tutto quanto prima di andare in negozio che comunque ragazzi non è sempre scontato trovarcele in negozio non è scontato per niente ci vuole fortuna di trovare accessori come questo nei Decathlon bene anche per questo video è tutto ci vediamo al prossimo domani il video del Montelabro un saluto dal vostro Tom Search e se voi vedete questo video ovviamente in altri giorni e domani non sarà domani non sarà il vostro domani il video del Montelabro andatevelo a vedere che è figo ciao ragazzi Grazie Grazie